Eccoci qui ad iniziare un nuovo videocorso su AutoCAD, questa volta però su Ambiente Mac. Partiamo proprio dalla schermata iniziale, l'ambiente è quello di OS X Sierra, ma non c'è problema se avete anche qualche versione datata, vale la stessa cosa per AutoCAD. In realtà la versione che utilizzo è l'ultima, la AutoCAD 2017, versione che per quanto riguarda gli studenti e gli insegnanti è gratuita e potete, una volta registrati nel sito dell'Autodesk, potete scaricarla e utilizzarla per tre anni di seguito. Allora, cominciamo. Una volta installato trovate AutoCAD su questa barra, eccola qua. Facciamo un clic per far partire il tutto, quindi AutoCAD si sta aprendo e ci presenta questa schermata dove possiamo iniziare un nuovo disegno oppure imparare, ci sono, se collegati in internet, dei tutorial che spiegano le basi, diciamo, seppur velocemente, di come funziona AutoCAD e alcune estensioni che possiamo trovare nelle varie piattaforme. Eccole qui, dei forum, YouTube e così via. Noi ovviamente cominciamo con il creare un nuovo disegno, eccolo qui. Per quanto mi riguarda, in questo corso utilizzerò tutti i termini in italiano per descrivere i comandi e i sottocomandi di AutoCAD. Allora, su Crea abbiamo la possibilità di selezionare, vedete, varie opzioni. Continuare un lavoro, quindi possiamo aprire un disegno preesistente, non è il nostro caso, oppure iniziare un nuovo lavoro. Anche qui sotto la possibilità di aprire da file esistenti un disegno di AutoCAD oppure esplorare disegni di esempio, vedete, tramite questa icona. Non ci interessano più di tanto, ovviamente, l'icona che ci interessa, nuovo disegno. Eccola qua. Qui ci viene chiesto di selezionare un template o un modello di base. Nel nostro caso, siamo in Italia, quindi utilizzeremo un modello di disegno ACAD ISO. Se dovessimo invece lavorare, soprattutto con il tridimensionale, conviene impostare, partire con un template, con un modello di base ACAD ISO 3D. Nel nostro caso, quindi, ACAD ISO DVT. Quindi, questa è l'estensione dei modelli di AutoCAD. Ne parleremo ampiamente nel proseguo di questo corso. Fatto questo, apriamo. Eccola qui, l'interfaccia di AutoCAD su Mac. L'interfaccia 2017. Allora, noi abbiamo aperto, quindi, un nuovo disegno con sotto un template, cioè un modello dove ci sono già delle preimpostazioni, per esempio l'altezza dei testi, l'altezza dei testi delle quote e altre cose. Tutte impostazioni che ci vengono passate in automatico, grazie al fatto che abbiamo aperto questo DVT ACAD ISO. Vedremo come, mi ripeto, costruirne di personali, dove includeremo anche i layer che noi utilizzeremo più spesso, i tipi di testo o cartigli che faranno parte dei nostri progetti. Allora, vediamola questa interfaccia. Qui troviamo la barra dei menu. Eccola qui. Assomiglia per chi arriva dal mondo PC alla barra che trovavamo nelle versioni 2008 e precedenti. Una serie di comandi disponibili grazie a queste tendine. Non mi soffermo su nessuno, perché quando sarà il momento li andremo a vedere in funzione dell'utilizzo che dobbiamo fare. Diciamo subito che tutte queste barre le troviamo qui. Possiamo aprirle o spegnerle grazie ai flag che possiamo selezionare o meno in queste voci. Per esempio, questa si chiama barra degli strumenti. Tool barra, eccola qui. Se vogliamo farla scomparire, non facciamo altro che togliere la spunta in questo menu. Noi manteniamo tutto, ovviamente. Eccola qua. Qui vengono, diciamo, raccolte le icone che portano i comandi che noi utilizziamo spesso. È personalizzabile, perché se io mi soffermo in una parte, vedete, vuota, e faccio tasto destro, personalizza, barra degli strumenti, ho una serie di altre icone che posso aggiungere o togliere, vedete, semplicemente trascinando. Un'altra tavolozza fondamentale è questa che troviamo ancorata sul lato sinistro del monitor, dove troviamo, vedete, i comandi per il disegno, per la modifica, e così via, nell'ambito prettamente bidimensionale, 2DD AutoCAD. Se invece l'intenzione è quella di lavorare nell'ambito 3D, dobbiamo passare, vedete, a questa seconda scheda, dove troviamo non solo strumenti bidimensionali, ma una serie di comandi che ci permettono di lavorare nell'ambito 3DD AutoCAD. Quindi, semplicemente, cliccando, vedete, sopra questi tab, passiamo dall'ambiente bidimensionale a quello tridimensionale di AutoCAD. Anche queste sono perfettamente personalizzabili. Per esempio, grazie a questa rotellina, possiamo attivare o meno determinate icone, vedete, vengono aggiunte, oppure tolte, se magari noi non ne facciamo assolutamente uso. Poi non è finita. Qui sotto abbiamo, vedete, questa iconcina che ci permette anche di spostare il gruppo, diciamo, degli strumenti, semplicemente selezionandolo e trascinandolo nella posizione desiderata. Eccolo qui. Appare una striscia blu, vedete, che sta a simboleggiare la posizione di destinazione del nostro gruppo di strumenti. Lascio tutto com'è e qui ancora, questa più, invece, permette di creare il nostro gruppo di strumenti, per esempio, architettura. E qui non faccio altro che trascinare gli strumenti che spesso utilizzo. Ecco, vedete, vengono messi in questa disposizione quattro comandi visualizzati con icone grandi e poi le altre quattro, invece, con icone più piccole. Sto facendo tutto velocemente, quindi qualcosa può non andare bene. Comunque, ok. Avete capito come funziona. Molto semplice. Se la cosa non ci interessa, ovviamente basta cancellare tutto. eventualmente non ci interessasse più, ci avviciniamo, vedete, in questo punto c'è il nostro cestino. Basta fare un clic sopra, ci fa una domanda di conferma, noi diciamo cancella tutto. Ecco fatto. Porto il nostro gruppo personalizzato di strumenti. Qui sotto troviamo la barra di stato. Qui la possibilità di farla sparire. Vi ricordo che a fianco potete leggere anche la combinazione di tasti, in questo caso Command 6 per farla apparire o sparire. Eccolo qua. Command 6 per farla apparire, Command 6 per farla sparire. Ok, facciamo allora riapparire. Come dicevamo, importantissima barra di stato dove troviamo lo spazio modello, quello nel quale stiamo lavorando. Questo per intenderci spazio scuro. Eccolo qua. Con la griglia nel primo piano. E qui altre due schede, ma possono diventare molto di più, sono le schede dello spazio carta dove noi andiamo a finalizzare il nostro disegno per una stampa finale. Portiamoci nello spazio modello. Eccolo qua. Qui abbiamo le coordinate, perché in effetti, in realtà, questo è un grandissimo spazio cartesiano. E qui vengono rappresentate le coordinate del cursore. E su questa parte, una serie di icone fondamentali per il disegno di precisioni di AutoCAD. Chiaro che le passeremo in rassegna, tutte quante. Poi, per finire, questo ViewCube, dove soprattutto nel 3D ci permette di spostarci nello spazio tridimensionale, non è essenziale, chiaramente, se noi lavoriamo nell'ambito 2D bidimensionale di AutoCAD. Eccoci qua, sulla parte destra, dove troviamo la possibilità di impostare, creare e gestire i layer, e nonché quella che è la cosiddetta tavolozza delle proprietà, divisa in tre schede. Allora, velocemente, quando abbiamo All, cioè tutto, vengono rappresentate tutta una serie di valori di settaggio del disegno che abbiamo in essere. Quindi, il layer attivo, per esempio, il tipo di linea, l'UCS che stiamo utilizzando, termini questi che diventeranno comunque familiari con le prossime video lezioni. Poi, abbiamo la scheda mia, personale, mai. Questa qui si riferisce all'oggetto che noi andiamo a selezionare. Eccolo qua, vedete? Ho selezionato questa linea, impareremo nella prossima lezione, ovviamente, come disegnare le linee, e qui ci fa vedere tutte le proprietà della linea selezionata, della selezione di AutoCAD. invece, avessi scelto e selezionato un cerchio, qui avremmo le proprietà del cerchio. Poi, un'altra scheda per personalizzare queste proprietà, perché potrei far comparire ancora altri dati delle proprietà del cerchio. Eccole qua. Dove ci sono le spunte attive, queste vengono rappresentate nella scheda MyProprietà. Vediamo un esempio, se vogliamo far comparire anche le normali all'X, Y e Z, attiviamo queste spunte e se noi ritorniamo ora in MyProprietà troviamo anche queste caratteristiche, vedete? rappresentate una volta che facciamo la selezione dell'oggetto. In questo caso l'oggetto cerchio. Non ci interessa, ovviamente, era solo per dimostrare come funziona il tutto. Ritorniamo qui e togliamo le queste spunte. Così diventa più semplice la lettura delle proprietà dell'oggetto cerchio. Facciamo un clic qui e siamo a posto. Bene, nella prossima lezione cominceremo a utilizzare quello che è il comando più importante in assoluto di AutoCAD, il comando linea. Vedremo tutti i modi per utilizzarlo, ma soprattutto anche i modi per velocizzare la stesura di questo comando per ottimizzare meglio i tempi di produzione dei nostri progetti. Alla prossima!